...sicuro, cioè, sono bagnati, cioè, riescono a sudare anche le parrucchie, o no? Sono diventate veri, sì, ormai facciamo parte del... Ah, mi sono dimenticato una cosa, perché di solito toglievo e a un certo punto dicevo... Cominciai a girare un film, How I Won The War, come ho vinto la guerra, una presa in giro sulla guerra. Durante le riprese indossai per la prima volta...